Amore, aspetta! E tienila qua! Davi! Ciao, sono Matteo, dicono il suo fidanzato. Ciao, sono Alessia e io sono la sua fidanzata. Questa è la nostra puntata di Obbligo e Verità. Chiama tua mamma e dille che ti stai per sposare. Ciao, lezione! Ciao, ma Matteo mi ha chiesto di sposarlo, ma... Oh, Madonna, ma che te l'ho chiesto? L'ha chiesto? È certo che me l'ha chiesto lui, perché secondo te lo chiedo io. È l'anello? Non hai visto l'anello, ma... Porta la banderia al tuo vestito. Vado, 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 vado. Vado la volta. Sì, ma... Sono troppo emozionata, ma... Ha detto se sei contenta tu. Dopo un mese, mamma. Facciamo la verità. Perché piangi in quel modo? Posso, un obbligo? Lasciati scrivere qualcosa sulla faccia dell'altro. Dall'altro. Abbiamo due baffettini qui, vieni, facciamo dei baffetti. No, c'è un brufolo gigante, ma... Torniamo anche lui, non ti preoccupare. Ha letto, ho migliorato. Sei veramente bella. Ti torno sull'obbligo. No! Metti mi piace a una foto di Paola Di Benedetto. No. Ho cancellato Instagram oggi, non so perché. Va bene, allora peschiamo un altro obbligo. Questa è cattiva. Mangiate una mela senza mani. Dai, poi sarà più carina. Dai, siete proprio dei pezzi di merda. Com'è Paola Di Benedetto a letto? Risivo o meno. Stesa. Riproducete questa posizione di yoga. Non l'ho capita io. Cioè, immagino, proprio... Vai, ma... Guarda che bra... No, vabbè. Ah, sei già stata a pranzo da tua suocera? No. Sicuramente sarà a giorni, però non abbiamo avuto l'opportunità. L'ho invitato? Almeno risulta. Controlla il telefono. Da 1 a 10, che voto dai a Francesco Monte? Oh, che bella, che bella. 8. Lo segniamo. Dai. Lo segniamo. Dai, ho l'obbligo. Dai. Dai. Dai, 10 palleggi. Alza, mirada. Possiamo sommarli. 2, 3, 4, 5, 6, 7. È un miracolo struttivo, 7. Questa era la nostra puntata di Obbligo e Verità. Ci siamo divertiti. Cute.